Restiamo sempre in tema ma ci spostiamo a San Mignato dove oggi dopo la creazione dell'indirizzo di biotecnologie sanitarie sono state presentate alcune novità inerenti al settore turismo dell'istituto Cattaneo con un'apertura anche verso e soprattutto turismo e comunicazione. Ci racconta tutto Marco Rocchi. Il turismo è uno dei settori economici più dinamici ed espansivi a livello mondiale. Ma è anche il settore in cui più forte è stato l'impatto delle nuove tecnologie. Se il turismo sta cambiando l'istituto tecnico Carlo Cattaneo di San Mignato prova a stare al passo con i tempi. Il prestigioso percorso tecnico per il turismo della scuola che ad oggi conta circa 200 studenti distribuiti in 10 classi cambia pelle e lo fa partendo da una formazione più incentrata sulla comunicazione. Vogliamo che i nostri ragazzi non soltanto siano esperti in gestione aziendale perché il turismo è un'attività economica non solo abbia una buona conoscenza delle lingue praticata in termini di comunicazione con l'estero ma vogliamo anche che si impraticiscano nelle pratiche di comunicazione soprattutto attraverso le nuove tecnologie. Come cambieranno i corsi didattici? Prevediamo una nuova disciplina che si chiamerà appunto teoria e tecnica della comunicazione che sarà dedicata trasversalmente alle discipline già presenti proprio all'uso delle nuove tecnologie di internet, della costruzione di pagine web, insomma di tutto ciò che oggi c'è bisogno per presentare un territorio e venderlo al meglio. L'istituto tecnico Cattaneo proseguirà con la politica degli scambi internazionali attraverso due progetti. Una è l'Erasmus che è un progetto europeo ormai conosciutissimo in quanto tale e poi abbiamo gli scambi culturali che invece coinvolgono intere classi e che sono praticamente obbligatori per chi vuole fare il percorso turistico e che consolidano un rapporto con scuole di altri paesi per sviluppare le tre lingue che istituzionalmente si insegnano nella nostra scuola, quindi l'inglese, il francese e il tedesco.